Mi spieghi, perché sei diventato massone del Grand Oriente d'Italia? Io sono nato massone. No, nato no, nessuno nasce. No, nel senso che la mia famiglia è una famiglia risorgimentale, Garibaldina e Mazziniana. Garibaldi l'ha fondata nell'861, il Grand Oriente d'Italia, è stato il primo gran maestro, nessuno lo dice. Posso chiedere che grado hai? Adesso sono maestro del terzo e ultimo grado della massoneria azzurra, quindi di più non posso crescere. Cosa vuol dire perché noi che siamo profani? Vuol dire che sei uno che è in grado di gestire una loggia, una tornata, di istruire gli apprendisti o i compagni d'arte. Senti, ma quando sei stato... Aspetta, non ho finito, perché a questo punto io sono anche maestro architetto del rito simbolico italiano, che è il grado di perfezionamento per impegnarsi particolarmente sui diritti civili e diritti umani da cui dipende la Lega per i diritti dell'uomo e tutte cose del genere. Grazie. 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 Grazie.